è apparso realmente emozionato il presidente del termoli calcio francesco maria calarco che ieri sera presentato la nuova squadra completamente rigenerata settimana di acquisti importanti e da oggi il termoli big in campo non scende più con gli straordinari giovani della juniores che nonostante le sonore sconfitte hanno dato dimostrazione di grande impegno di serietà calarco aveva promesso una sorta di rivoluzione e così è stato è una giornata importante per me è emozionante perché per la prima volta vedo realizzato il primo tassello di quello che vi ho detto il primo giorno esordisce così il presidente calarco e a queste parole risponde un fragoroso applauso dei numerosi supporter presenti all'appuntamento abbiamo subito aperto al dialogo abbiamo subito comunicato con la tifoseria abbiamo comunicato con la gente il termoli calcio è una grande realtà e presto lo vedranno tutti il presidente calarco ha evidenziato così come ha fatto poi il ds di filippis anche la necessità di andare tutti nella stessa direzione una squadra unica fuori e dentro il campo la salvezza ha sottolineato il ds pino de filippis rientrato in casa giallorossa dopo una lunga pausa è una vittoria di campionato dobbiamo rimare tutti nella stessa parte parlare tutti la stessa lingua se andiamo in direzioni diverse non andiamo da nessuna parte l'entusiasmo è bello ma va coltivato sapete come sono fatto dico sempre quello che penso quando lasciato pensavo si proseguisse bene invece non è stato così il patron calarco ha voluto vicino a sé nella sala del martor resort oltre al mister casu al ds de filippis e l'altro pilastro della dirigenza padovano tutta la sua squadra c'erano quasi tutti dagli ultimissimi arrivi come ragazzo cremona di matera felici e l'atteso ritorno di giuliano falco